Il centro di urno CTL San Lazzaro ha festeggiato i suoi 30 anni di attività a sostegno dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie in un pomeriggio in compagnia di tutti coloro che hanno contribuito alla vita del centro. Sono 30 anni che questo servizio opera sulla città di Fano, è un traguardo molto importante perché adesso sembra scontato che esistano dei servizi così ma 30 anni fa non lo era. Questo è un servizio nato in risposta a un'esigenza concreta dei familiari, dei ragazzi che noi ospitiamo, dei ragazzi disabili. L'amministrazione a suo tempo ha deciso di aprire questo servizio proprio in risposta ed è un servizio che poi nel corso del tempo ovviamente è partito con due ore pomeridiane, è diventato un servizio di urno completo con un'offerta socioeducativa totale rispetto a quello che è la persona. Nato nel 1985 per volontà dei servizi sociali del comune di Fano, il servizio fu aperto come spazio socio-ricreativo pomeridiano. Nel corso degli anni poi il servizio si è strutturato come centro di urno ampliando il proprio tempo di apertura in risposta alle esigenze dei familiari e degli ospiti e offrendo un percorso educativo riabilitativo completo. Il servizio non vuole essere solo un servizio socio-sanitario ma vuole anche trovare molteplici occasioni di incontrare la gente del quartiere sia noi integrandoci nelle attività della città, sia abbiamo voglia che la città venga dentro il nostro centro per conoscerci e per valorizzare entrambe le risorse che possiamo mettere a disposizione, noi e il quartiere. Le autorità cittadine, i ragazzi con le famiglie e chi ha collaborato col centro si sono incontrati insieme alla cittadinanza in un pomeriggio per festeggiare la storia e un traguardo così importante per il centro.